Sono campioni italiani a squadre di prima categoria. Si chiamano Francesco Galas, Michele Bresciani, Paolo Zampiccoli e Federica Rodella, quattro ragazzi della Busa, soci e frequentatori dell'impianto del CT Arco, che nell'ultimo weekend a Riccione hanno sbaragliato il campo in questo speciale torneo organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Squash. La squadra arcense, che per ragioni tecniche veste i colori dello Squash Club Pegaso di Cornedo, un centro del Vicentino dove opera il tecnico Diego Bertoldo, ha superato in finale il New Squash Club di Catania. Ora lo sport dello squash per il circolo tennis arco non è più un fratello minore. Ci sono parecchi soci, incontri di livello e soprattutto si è creata con gli anni una squadra competitiva che ha già raccolto notevoli successi. Lo scorso anno Francesco Galas ha vinto a Milano il campionato italiano individuale di quarta categoria con l'assi Squash, mentre, come dicevamo, nell'ultimo weekend è arrivato il successo a squadre. Una grande soddisfazione, ha commentato Michele Bresciani, che è un po' il leader di questo gruppo, anche se ci dispiace un po' non averlo colto con i colori del CT Arco, dove siamo nati e dove ci alleniamo. È innegabile comunque che noi siamo nati qui e qui vogliamo continuare a crescere.